Quante volte incontro scrittori che dicono io uso molto i social network per promuovere i miei libri uso prevalentemente Instagram, poi Facebook e sempre più TikTok o il fenomeno dei booktoker. Ma LinkedIn non l'hai mai preso in considerazione? Ma no, LinkedIn social network professionale ma perché mai dovrei mettermi a promuovere il mio libro lì? E invece ho fatto proprio questo video per dimostrare che dovrebbe essere invece una delle priorità. Perché? Beh, sostanzialmente innanzitutto l'idea che un professionista della scrittura si presenti al meglio è prioritaria quindi fondamentalmente l'idea di presentarsi nel profilo personale e professionale come uno scrittore è sicuramente una buona idea nel momento in cui vuoi spingere quel tipo di attività e lo si fa a partire dalla headline. Questo Andrea per esempio si presenta sia come giornalista e come scrittore. Però si può creare anche un banner sopra con la foto di copertina del libro oppure durante una firma copia o durante una presentazione in modo comunque anche visivamente immediatamente da inquadrare il nostro ruolo di scrittori. Ma poi dobbiamo inserire delle sezioni all'interno di LinkedIn a volte tra l'altro strascurate come quella delle pubblicazioni dove possiamo elencare i titoli la casa editrice, l'anno di pubblicazione del libro. E poi abbiamo la possibilità invece di disseminare tutto il profilo di parole chiave perché sostanzialmente l'idea è quella di essere riconosciuti per il tema di interesse se stiamo ovviamente scrivendo dei saggi. Quindi ho scritto un bel libro sulla prima guerra mondiale e magari da qualche parte ci metto dei termini di ricerca che riguardano che so, le trincee che può comunque farmi come in questo caso nel caso di Maria Vittoria trovare addirittura il titolo del libro. Ma poi ci vuole una strategia di contenuti perché LinkedIn non è soltanto un social network ovviamente le relazioni sono fondamentali per gli scrittori ma è anche social media strumento di comunicazione quindi bisognerebbe avere una strategia di contenuti dove ogni tanto postiamo il nuovo libro che è uscito però anche questo è un po' forzatino un po' autoreferenziale quindi va bene mettiamolo che è uscito il nuovo libro siamo felici, siamo contenti annunciamo urbi e torbi questa grandissima novità ma io vorrei soprattutto ripeto nel caso dei saggi come nel mio caso non fare la televendita di materassi alla Mastrotta con il cambio il cambio Shimano in regalo ma dove parliamo del tema dove parliamo del problema dove parliamo della questione facciamo questo esempio di Mariano Diotto che fa una serie di contenuti legati al neuromarketing un po' perché è la sua attività ma un po' perché poi se vai a vedere sul suo profilo ti trovi poi il libro di approfondimento sulle tematiche che lui tratta nei post e poi ovviamente un'altra cosa che possiamo fare è promuovere per esempio delle presentazioni esiste la possibilità su LinkedIn di creare degli eventi magari l'evento della presentazione che sia online o offline poco cambia ma è meglio ancora se ovviamente noi troviamo degli ambasciatori del nostro libro degli ambasciatori che portano a casa il risultato al posto nostro e quindi gli altri che promuovono il nostro libro che parlano del nostro libro che parlano della nostra presentazione sarebbe sicuramente il massimo lascio con un piccolo trucco di comunicazione persuasiva noi non dobbiamo mai dire ovviamente il nostro libro è bello se no è lo scarafone bello a mamma sua dobbiamo trovare il modo di far pensare alle persone che il nostro libro sia interessante per esempio in questo caso perché il nostro libro sull'internet delle cose è stato piratato probabilmente ti viene da pensare il libro è così buono che merita un'azione criminale questa è comunicazione persuasiva buona promozione del libro online ho deciso di fare questo video soprattutto perché ho scoperto che ci sono in italia molti più scrittori che lettori ciao grazie a tutti grazie a tutti